Il 2 febbraio del 1703 un terremoto disastroso colpì l'Aquila distruggendo la città e provocando quasi 10.000 morti tra città e paesi vicini. Era il giorno della Candelora, la maggior parte della gente era radunata in chiesa. La chiesa delle anime sante fu costruita per onorare i morti del sisma e fu intitolata poi alla Madonna del Suffragio. L'Aquila perse un terzo dei suoi abitanti. Quel terremoto fu definito il grande terremoto. Dopo la scossa principale ne seguirono altre. Dopo la tragedia da Napoli fu inviata all'Aquila un commissario straordinario che organizza i soccorsi tenne sotto controllo l'ordine pubblico ma soprattutto convince la popolazione a non lasciare la città e fece una specifica ordinanza per estrarre le vittime dalle macerie e recuperare gli oggetti personali rimasti nelle case danneggiate. Il terremoto provocò crolli estesi in tutta la città a numerose le chiese crollate tra cui quelle di San Bernardino, la cui facciata fu risparmiata, San Filippo, la Cattedrale, San Massimo, San Francesco e Sant'Agostino. Il crollo della chiesa di San Domenico causò la morte di centinaia di persone che erano riunite per le celebrazioni della Candelora. Anche i monasteri della città crollarono e numerosi palazzi nobiliari subirono danni gravissimi. Il castello, le mure e le porte della città furono seriamente danneggiati. Fu la curia e alcuni privati che avevano del denaro a ricostruire l'Aquila. I lavori di ricostruzione del sisma del 2009 hanno riportato alla luce alcune emergenze e situazioni del terremoto del 1703 ma una analogia importante che lo storico Walter Cavalieri ritrova con quello del 2009 è rischio spopolamento. L'Aquila ha sempre avuto fin dai tempi della fondazione il problema del popolamento e di conseguenza ha restituito un coprifuoco e una serie di baracche provvisorie soprattutto in piazza del mercato tra cui anche la sede del consiglio comunale. Tenete conto che il Camerlengo morì appunto in quello stesso terremoto. La città fu ricostruita con fondi privati sia da parte delle famiglie aristocratiche sia da parte della chiesa aquilana e lo Stato intervenne unicamente con una esenzione fiscale di dieci anni che fu concessa all'epoca come anche nel nostro terremoto. Io vedo delle analogie soprattutto nel problema appunto del popolamento perché come allora anche dopo il 2009 la città si è sostanzialmente spopolata, si è ripopolata è vero ma gran parte degli immobili presenti in città in effetti sono sfitti, liberi cioè privi appunto di popolazione.